Presidente, importante il valore inclusivo dello sport, su questo oggi hai battuto il chiodo molto forte per quel che riguarda l'inclusione dello sport, soprattutto nelle scuole, soprattutto a livello di accessibilità degli impianti. Importante il lavoro che è stato fatto fino ad oggi, ma siamo ancora molto lontani dall'avere veramente una situazione favorevole che ci va, perciò questi momenti, questi incontri come quello che è organizzato oggi da Michele, da te, per l'esterno sport, significa veramente importante passaggio, importante escalation. Perché ho insistito sulla scuola? Perché secondo me c'è ancora molto da fare in questo ambiente. È l'ambiente naturale dove la maggior parte, tutti i ragazzi, cominciano ad assumere, a prendere coscienza dell'attività sportiva. E quindi noi che siamo preposti alla preparazione per i grandi eventi, olimpiadi, paralimpiadi, abbiamo necessità di avere un numero sempre maggiore di partecipanti perché da qui si può evidentemente fare selezione e trovare i talenti giusti. Francesco Bocciardo evidentemente è uno di questi che ci consola da questo punto di vista, ma se rimane solo evidentemente non è un fatto positivo. Anche per questo è necessario che nella scuola ci sia attenzione. Abbiamo un'occasione, due importanti necessità. Quelle di avere le palestre scolastiche adeguate per fare attività sportiva per tutti e soprattutto per le persone disabili. La seconda, questa occasione di avere finalmente rotto l'incantissimo della scuola elementare che non prevedeva insegnamenti di educazione fisica e di educazione motoria. In questo caso è necessario che chi fa quell'insegnamento sia anche in grado di affrontare problematiche che evidentemente chi ha una difficoltà, studenti disabili, sia coinvolto in qualche modo e abbia la possibilità di conoscere che non esistono barriere e che quindi non esista nemmeno difficoltà di farlo partecipare alle attività sportive. Quale valore ha per tutto il Comitato Paralimpico poter contare su un alleato come Stelle Nello Sport per entrare nelle scuole con i campioni e anche per promuovere l'inclusione attraverso Sportability? È importantissima e fondamentale, io questo non lo dico adesso, ma l'ho sempre detto. C'è necessità di avere alleati, diciamo la verità. E gli alleati, voi siete, diciamo, l'alleato principe in questa regione. Ci vogliono alleati, lo sappiamo tutti, lo sport per crescere ha bisogno di avere tante cose, dalla famiglia, dalle società sportive, dalle strutture, dagli enti locali, dagli sponsor, chi più ne ha più ne metta. Però è importante che questa alleanza sia sinergica, cioè abbia una regia. In questo caso Stelle Nello Sport lo fa, è una bella regia sul territorio, è necessario che intorno a questo si creino tutte le condizioni per che si cresca. Ci sono le condizioni, perché non coglierle.